Il ginocchio è stabile e adesso c'è da rinforzare il ginocchio, rinforzare tutto quello che c'è da fare per stare in campo il più presto possibile, però senza fretta perché con la fretta si fanno le cose male, quindi vorrei essere al 110% per stare bene. Così Pepito Rossi esprime i suoi primi concetti da giocatore della Fiorentina e fa chiarezza, il rientro prima possibile ma solo quando sarò veramente in condizione. Sono molto contento di essere qui con la Fiorentina, una grandissima squadra, è l'unica squadra che si sono fatti davanti senza chiacchiere, però con i fatti, quindi questo per me era una cosa molto importante e spero di guarire il più presto possibile per tornare a giocare qui davanti al pubblico fiorentino. La sfortunata partita contro il Pescara non è altro che un breve incidente di percorso, intanto il direttore sportivo Pradè, dopo aver parlato proprio della gara di ieri, che spiega anche quale sarà il contratto di Pepito. La Giuseppe ha firmato un contratto di 4 anni e mezzo, 6 mesi, questi conclusivi fino alla fine del 2013, più altri 4. Ci sarà una clausola recissoria fino al 2015 di 35 milioni e dal 2015 alla fine della scadenza di 30 milioni. Così non ci sono cose particolari, chi c'è sta la clausola o non c'è sta, l'abbiamo detto subito e tutti siamo sereni. E poi il direttore sportivo Pradè puntualizza anche su un'altra questione, non è che l'arrivo di Rossi debba poi prevedere la partenza di Jovedic. È soltanto per esprimermi, per esprimervi, quello che la famiglia della Valle ha in testa con Giuseppe Rossi, e questo è importantissimo, Giuseppe va a riempire una programmazione che la Fiorentina ha a medio-lungo termine, come quando abbiamo iniziato proprio questo percorso, come quando ci siamo presentati. Ossia, Giuseppe Rossi è il nostro futuro, come è il nostro futuro la nostra squadra. Non c'è neanche da pensarlo minimamente che noi si programma Giuseppe Rossi per poi fare un'uscita di un altro calciatore. Il calciatore, tanto inutile che stiamo pensando, è Jovedic. Nuova avventura e nuovo numero di maglia, il 49, l'anno di nascita del padre, e intanto spiega anche altre ragioni che l'hanno convinto a venire a Firenze. Giovani in squadra, con giocatori d'esperienza, e credo che questo è un buon mix. Tutti noi sappiamo che la Fiorentina quest'anno sta facendo il miglior calcio d'Italia, e quindi sono contento di fare parte di questa società, di questo progetto. E riguardo il ginocchio, le cose vanno bene, sono tre mesi adesso dopo l'operazione, tre mesi e una settimana. Sto facendo le mie terapie a New York, con il mio fisioterapista Luca Buongiorno, che è qui presente. Prima di tutto il Presidente è una grandissima persona, l'ho conosciuto due giorni fa, e mi ha fatto una grande impressione. Direi che siamo molto fortunati di avere un Presidente come lui. Riguardo Gonzalo e Borja, ci siamo sentiti su Twitter, cose banali, quindi potete leggere pure voi quello che ci siamo scritti. e mi ha detto che dopo sempre siamo Walmarti, cr